Potrebbero dipendere dal riavvio dell'Alto Forno 4 dell'Exilva, attività cominciata il 21 marzo scorso, gli incrementi significativi delle concentrazioni di inquinanti gassosi rilevati a Taranto d'Arpa Puglia. I dati sono stati rilevati dalle reti di monitoraggio della qualità dell'aria, ma anche dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni convogliate dell'acciaieria. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ha segnalato le criticità in una lettera inviata a dispra Ministero della Transizione Ecologica Regione Puglia, Prefettura Comune e ASL Taranto. Si fa riferimento ai giorni 22-24 marzo scorsi. Registrato un superamento del valore limite medio orario di biossido di zolfo alle ore 19 del 22 marzo presso la stazione via Machiavelli nel quartiere Tamburi con valore pari a 910 microgrammi per metro cubo e contemporaneamente un valore massimo orario presso la cabina della rete Acciaierie d'Italia a Meteo Parchi con valore pari a 517 microgrammi per metro cubo. Dunque un superamento del limite orario che non determina, scrive l'Agenzia, un superamento del limite giornaliero e nemmeno della soglia di allarme di 500 microgrammi per metro cubo per tre ore consecutive.